E viva vostra altezza Granducale! Cin cin. Auguri per la prossima volta, ma non con me si intende. Dica un po', io ci sento qualcosa. Sicuro che non faccia strani effetti e berla ad un fiato? Dopo tre di quelli potrebbe provare una certa euforia. Credo ne abbia presi abbastanza. Eh sì, lo credo anch'io. Vuol sapere perché avevo tanta paura stasera? Credevo di dover sostenere una lotta con me stessa. Io ero certa di vincerla, le vinco tutte. Ma stavolta pensavo, lui è un principe ungherese, un granduca pieno di fuoco, di passione. E se c'è qualcuno che la salunga in fatto d'amore deve essere lui. Pensavo, pensavo perfino che avrebbe messo gli zigani a suonare nostalgiche canzoni e che le luci sarebbero state belate e un profumo inebriante avrebbe pervaso l'ambiente. Insomma, tutto considerato, pensavo «Ragazzina, guarda dove metti i piedi, sta attenta a quello che fai!» Grazie. 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 Grazie.